Senti questo suono? Proviene dallo spazio e si tratta della stella Kepler. La NASA ha pubblicato su SoundCloud una playlist di alcuni suoni dell'universo davvero inquietanti. Onde, fischi e rumori spaventosi perfetti per un film di fantascienza. I suoni dello spazio sono incredibilmente spettrali. Tra questi, quelli provenienti da Giove, che sono stati captati dalla sonda Juno nel momento in cui attraversava il campo magnetico del pianeta. Il suono viene prodotto quando i venti solari supersonici attraversando il sistema solare rallentano e si riscaldano quando entrano in contatto con la magnetosfera di Giove. Suggestive poi le onde di plasma delle fasce di Van Allen e le emissioni radio di Saturno monitorate dalla sonda Cassini. Non mancano poi suoni delle comete come quelli di Temple One, ottenuti grazie ad uno strumento della navicella spaziale Stardust colpito da alcune particelle.